Nella Roma delle assurdità succede che una mamma e i suoi due bambini vengano sfrattati, sgomberati, buttati fuori di casa loro nonostante per anni abbiano pagato un canone di locazione più alto di quello che avrebbero dovuto pagare, solo se la legge fosse stata applicata e il Comune di Roma e la Regione Lazio avessero vigilato sulla corretta applicazione. Questo per noi era intollerabile e inaccettabile, per questo motivo nell'emore che la magistratura faccia il suo corso e che gli uffici comunali e regionali finalmente si decidano a lavorare a favore dei cittadini e non a favore delle cooperative, il Movimento 5 Stelle ha fatto quello che sa fare meglio, cioè ha affermato un'illegalità. Abbiamo posto il nostro domicilio parlamentare a casa di questa famiglia e questo fa sì che per effettuare lo sgombero di questo nucleo familiare, una mamma e due bambini piccoli, dovranno chiedere i signori costruttori l'autorizzazione alla Camera dei Deputati e vedremo se la Camera dei Deputati avrà il coraggio di buttarli in mezzo a una strada. Noi intanto facciamo quello che sappiamo fare meglio, fa rispettare la legge.